No, 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 io voglio una spiegazione, io voglio una spiegazione, ma è mai possibile che a me mi stanno succedendo i miei disgrazi, io non posso cambiare più, guarda, non posso cambiare più, ma perché proprio con me, tu pigli, proprio con me, con me che venga una famiglia religiosissima, io tengo a mia zia che organizzava i pellegrinaggi per il padre e il figlio, e tu mi fai questo a me per fare, no, 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 io ho già una spiegazione, io a qua non me ne faccio, io non ho già una spiegazione. No, mia amica stava gridando, ho alzato un po' la voce, mi ha dato lontananza, forse chi si sta facendo qualche altra cosa, sì, ho chiamato, ho chiamato, volevo sapere come è il fatto che a me mi stanno succedendo i disgrazi, a presa, a presa, guarda, io non posso cambiare più, io bestemmiavo, no, no, guarda, ti sbaglio, non ho mai bestemmiato, E quando è che a me mi ricordo, sì, mi ricordo, no, no, non sono stati, mi ricordo, ma non sono stati, no, è stato l'amico mio, guarda, eh, stavamo tutti e due, e lo so, tu stai in ogni luogo, ma si vede che si vede spalla e non ne hai visto, ma no, non sono stati, ma ti giuro, non sono stati, no, è stato lui, guarda, E chi lo tenne, stupizzi, ogni tanto che si mette, mi dice, la città pure, sta tu, zitti, che chi lo so, piglio con me, no, è stato lui, guarda, eh, e mettiamo pure che fosse stati, niente di meno, tutte le scatene di questa manetta, io non posso cambiare più, guarda, eh, sì, ma tu in fondo sai quanto ti stimo, no, ma vengono ammesso tutte le domeniche, ogni domenica sono in chiesa, eh, e vabbè, e vabbè, aggiunto avrei un film sporco, ma, ma oggi i giorni i film sono tutti quanti così, eh, non ne hai visto, però che appena sono uscito dal cinema, duemila lire a chi lo povero, duemila lire a chi lo povero, mi pare a me che, eh, aggiungo di subitito a mio padre, chi lo mio padre, oh, però tu mi controlla allora, scusa, eh, non lo so, è messa in cuore un cuore, però, sì, ma guarda un po' che pure all'altra, ci faccio, mi pare che ce l'hai proprio con me, su fai, sì, ma guarda pure all'altra, non guarda solo a me, sì, ma in fondo nessuno è perfetto, ognuno tiene le cose, non lo so, tu sei perfettissimo, a parte il fatto che tu pure hai fatto i sbagli tuoi, eh, secondo te l'hippopotamo è bello, l'hai combinate di quella maniera l'hippopotamo, la lascia stare, lascia stare, ma ti pare bello che chi la sta sempre in dall'acqua, di quella maniera combina, no, no, pure l'elefante, eh, sì, l'elefante l'ha già sentito proprio, io che se l'ha mandato, eh, se l'ha mandato, non lo so, no, riceveva, riceveva, guarda come mi ha combinato, ecco, ho fatto che ci ho messo che la cosa annanza all'elefante, sì, ma perché ci ho messo che la cosa annanza all'elefante, eh, sono fatti che sono, bene fatti, volevo fosse il pendolo, volevo fatti prima gli esperimenti a parte, scusa, ma no, ma no, per piacere, ma è logico, ma se tu sei sull'elefante, vuoi sorprendere, tu vieni l'elefante con sorprendere qua, no, eh, no, si fanno a parte, no, no, tu tenivi l'eternità, annanzivo con calma e facevi il coso per bene, no, 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 secondo me volevo fare un po' con il pacone, non lo so, qualche scommessa di nivo, qualcosa, ma non so cosa che si fanno in da sei uo, no, ma lascia, eh, vabbè, che sono animali, sono animali, che significa sono animali, no, che poi pure gli uomini si lamentano, eh, sì, l'ha già sentito proprio, i casi lamentavano, eh, ricevono però, insomma, hai sbagliato, hai detto, non ne sienti perché chi ne parlano tutto così, eh, si lamentano, non lo so, riccino che tu hai fatto tutto cosa a favore del ricco, quello povero è destinato agli all'inferno, povero, hai fatto per forza, peccato, eh, ho fatto dei comandamenti, non desiderare la roba d'altro, ma 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 passano ricco a lei, mi vedi, che te ne ha desiderato il mio scuso, o vuoi essere un po' nostro, no, ma, no, ma lascia stasso, cosa, eh, non desiderare la donna d'altro, tu hai conosciato mia moglie, no, 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 siamo d'accordo, siamo d'accordo sì, uè, non fornicare, che significa non fornicare, eh, tu sai che ho i potaggi fornicati senza sapere, no, no, non lo so, no, io pensavo ai formigli che lo ha, eh, pensavo ai formigli, è venuto in un periodo che camminavo così, sapi, ma l'ha già visto brutto, lascia stare, ma no, ma non lo so, ma non lo so, io dicevo, forse questo ci tiene particolarmente per i formigli, ma che ne sace, sì, ma perché hai scritto non fornicare, scopi, ma tu ho spazio ottenito, no, e le tavole erano grosse, eh, invece non fornicare, scrive, non fate quelle, cose, non fate quelle cose, non fate quelle cose sporche, ah, così capiamo tutto quanto, però, e tu ti metti a scrivere, non fornicare, ma chi è che capisci, non fornicare, scusa, è difficile, no, 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 io so calmo, no, no, io so calmissimo, no, 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 a casa che ci sono, a casa che stai nervosendo, sei proprio tu, eh, e io ti vengo tutto arraggiato, tutto, eh, stai tutti nervosi, eh, eh, è letale, 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 lascia sta, lascia sta, che tu pure quando eri giovane era così, eh, subito ti nervosi, come no, come no, che la paura vogliono, proprio se mangiano meno, ma ci si succede lì, e Dio, ma noi stiamo calmo tutti quanti, eh, siamo calmo tutti quanti, anzi, eri venuto qua per parlarti proprio di un'altra cosa, io tu levo parla proprio in nato fatica, eh, che Dio, uno sta parlando, chissà, sì, agito, è che Dio, ma, no, è che Dio, mica è una bestemmica, ma no, l'agito in tutti i scorsi, no, io non devo niente, no, no, io so buono così, no, me ne vado, no, no, io non devo niente, me ne vado, no, 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 sì, so buono, sì, me ne vado, sì, sì, no. A presto. A presto.